Ok, buongiorno. Eccoci a questa nuova lezione che sarà di nuovo ancora sulla ricorsione, visto che è un argomento abbastanza ostico. Risolveremo insieme un nuovo esercizio, ma nella prima parte, come promesso, volevo ancora parlare due secondi dell'esercizio di mercoledì scorso, l'esercizio Voti Nobel, abbiamo visto la volta scorsa due approcci diversi per poter risolvere questo esercizio, di cui uno era nettamente migliore, più veloce, dal punto di vista delle performance, ed era questo l'approccio numero due, in cui generavamo i sottoproblemi di partenza un caso per volta, cioè il livello della ricorsione corrispondeva esattamente ad un esame di partenza, di quelli di partenza, e ad ogni livello decidevo se questo esame metterlo o non metterlo nella soluzione. L'approccio 1 invece era un po' meno performante, era più simile alla soluzione degli anagrammi, in sostanza ad ogni livello L della ricorsione aggiungevamo un esame. Quali esame? Beh, li provavamo tutti. Vi avevo proposto di pensare delle possibili ottimizzazioni di questo approccio. L'idea era un po' quella di, anche in questo caso, portarci dietro un po' il concetto di ordine, cioè di scorrere gli esami di partenza in ordine e in un certo punto della ricorsione, quindi in un certo livello, evitare di considerare gli esami che venivano prima nella lista di partenza di quello che si sta attualmente considerando. Nel senso che se siamo, ad esempio, l'idea è appunto di scorrere la lista di partenza in ordine, e se siamo al livello, che ne so, 4 della ricorsione, è inutile andare a considerare i primi tre esami di partenza, perché io li ho già considerati nei casi, nei livelli precedenti, quindi considero solo dal quarto elemento in avanti. Perché possiamo adottare un'ottimizzazione del genere? Perché nel nostro caso la soluzione finale, quella migliore, in quella soluzione non ci interessa l'ordine degli esami, e quindi è inutile avere delle soluzioni che sono dei doppioni, tipo composte da esame 1, esame 2, oppure esame 2, esame 1. Ci basta la prima, ok? Questa era l'idea, e come qualcuno di voi mi ha fatto vedere su Telegram e nei loro progetti, una possibile implementazione di questa idea poteva essere, può essere questa. Allora, come vedete, ho commentato quello che abbiamo fatto la volta scorsa insieme. Come facciamo per implementare questa ottimizzazione? Beh, innanzitutto dobbiamo cambiare la tipologia del ciclo for. Vogliamo, appunto, andare a scorrere gli esami di partenza in ordine, e quindi utilizziamo il ciclo for con un indice che parte da zero e arriva fino alla size di partenza. Quindi uno per volta in ordine considero questi esami. Ovviamente il filtro sul contains, imparziale, rimane, perché un esame può apparire una sola volta nella soluzione, ma aggiungiamo anche questo controllo aggiuntivo, ovvero che l'indice attuale del for deve essere maggiore o uguale del livello corrente della ricorsione. Quindi se siamo a livello 4 della ricorsione e l'indice I si riferisce ad una posizione nell'insieme di partenza che va da zero a tre, beh, noi non consideriamo quegli elementi, perché appunto vengono prima del livello di ricorsione. Non so se questo è chiaro, se avete domande potete farle in chat. Un'alternativa che qualcuno di voi ha implementato è al posto di avere questo controllo, questa end qui, si può addirittura non partire sempre da zero nel ciclo, ma partire da L. In questo caso trasporto il controllo che c'era qui direttamente nelle condizioni del for, anzi ne guadagno addirittura un po' perché i for mano a mano diventano più corti, mentre prima partivano sempre da zero. Invece qui li faccio partire direttamente da L. Quindi se siamo a livello 4 della ricorsione, noi scorriamo l'insieme di partenza direttamente dalla casella 4. Però poco cambia tra queste due, è il concetto, quello che conta. Come qualcuno di voi ha però notato, non è ancora sufficiente questa soluzione per raggiungere le performance dell'altro approccio. E ora vediamo un attimo perché. Alessandro chiede se posso rispiegare il ragionamento. Sì, il ragionamento è questo. Dunque vediamo di farlo qui in un commento. supponiamo di avere un insieme di partenza composto da tre esami, E1, E2, E3. Con l'approccio numero 1, che è simile a quello degli anagrammi, io a livello zero della ricorsione posso iniziare, diciamo così, la mia soluzione parziale in tre diversi modi. Posso iniziare con E1, posso iniziare con E2, posso iniziare con E3. Questi sono i tre casi del livello zero della ricorsione. D'accordo? Supponiamo di essere qui, no? Abbiamo iniziato a livello zero parziale con E2, vado a livello L uguale 1, ok? Qui di nuovo, parto dall'esame di partenza e devo decidere quali elementi provare. Quindi parto dall'inizio, questo parziale conteneva E2, io potrei dire E1 lo posso mettere, perché non è ancora contenuto in parziale. Il problema è che se noi andiamo su qua, allo stesso livello, posso fare lo stesso ragionamento. Qui parziale iniziava con E1, riparto a considerare gli esami di partenza, ok, E1 non lo posso più includere, perché c'è già, ma E2 lo posso includere. Come vedete, allo stesso livello, L uguale a 1, abbiamo due soluzioni parziali che per noi sono uguali, e semplicemente abbiamo scambiato l'ordine. Con l'ottimizzazione, in sostanza, questo parziale non lo vado più a esplorare. Perché? Perché io considero E2, sono a livello 1 della ricorsione, rianalizzo l'insieme di partenza e dico E1 lo posso inserire, in teoria sì, ma la sua posizione nell'insieme di partenza, la sua posizione è all'indice I uguale a 0, questa posizione è minore del livello corrente della ricorsione, e quindi lo salto. In sostanza, riesco a non considerare questa soluzione parziale che per me era inutile. E via via questo ragionamento vada ad applicarsi a tutti i livelli successivi. Michele chiede, è equivalente farlo partire da parziale punto size, giusto? Sì, direi di sì. Dici qua? Sì, penso di sì. Non vorrei dire una stupidaggine, ma direi proprio di sì. Francesca chiede, ma se si fa partire sempre il ciclo da I uguale a L, allora il contents non diventa superfluo? No, perché bisogna sempre ragionare che con la ricorsione si può sempre fare backtracking, e quindi si può sempre tornare in un caso in cui questa contents è necessaria. Per farvi capire meglio, e per farvi capire soprattutto perché questo controllo che vi ho spiegato adesso anche a parole purtroppo non è perfetto, non è sufficiente ad evitare tutti i casi duplicati, ho provato a semplificare un po' la situazione, ho inserito con la Populate DB cinque esami chiamati E1, E2, E3, E4, E5, tutti di 10 crediti, in modo tale da poter provare in modo migliore la nostra, più intuitivo la nostra soluzione, e ho anche definito una stampa di parziale, quindi ad ogni procedura ricorsiva che richiamiamo vado a stamparmi anche la soluzione parziale. E vediamo un po' che cosa succede, io ora qui mi assicuro solo di richiamare cerca 1, perfetto, vado sul main, lancio, definisco un numero di crediti di 50 perché voglio provare ad esplorare tutti i rami della ricorsione, ci sono cinque esami da dieci crediti, quindi la soluzione conterrà per forza tutti gli esami che sono presenti nel database, clicco su calcola, ah no, aspettate, ero tornato indietro, scusate un attimo, stoppo un attimo, aiuto, avevo reinserito gli esami originali, rilancio un attimo questo, per inserire questi esami fasulli, un po' più facili da leggere, e vado a rilanciare il mio main. Eccoci qua, 50 crediti, calcolo, ovviamente la mia soluzione contiene tutti gli esami, ma andiamo un po' a vedere qui le soluzioni parziali che mano a mano vengono costruite. Se noi vediamo, dovrebbe saltare all'occhio un caso, eccolo qui, in cui il nostro trucchetto non funziona, perché abbiamo un E5, che in teoria è l'ultimo esame di partenza, seguito da un E4, che però in teoria viene prima. Questo perché facendo backtracking, ci sono casi in cui appunto il nostro trucchetto non funziona. In particolare, se andiamo sul model, ci sono casi in cui questo I e questa L, cioè questa L non può tenere traccia, non può essere associata all'ordine dell'insieme di partenza. Quindi funziona nei primi rami e quindi già ci leva molti casi inutili, come abbiamo visto, perché le performance comunque migliorano, ma man mano che la ricorsione va avanti, quando si fa backtracking, ci sono casi in cui, esatto, adesso dice quando vado a svuotare, qui, quando ritorno indietro, ci sono casi in cui questa L viene modificata e questo controllo, la L torna indietro e questo controllo non vale più. Ok? Quindi questo controllo non è perfetto. Per farlo in modo, diciamo così, perfetto, questa ottimizzazione, che comunque concettualmente è giusta, bisogna cambiare un po' di cose. L'idea potrebbe essere, ok, al posto di ragionare sugli indici e sulla corrispondenza tra indice e livello, che abbiamo visto funziona solo ogni tanto, io vado a vedere l'ultimo elemento che ho inserito nella soluzione parziale. Ad esempio, se torno un attimo qui, vado a prendere, vado a chiedermi, ok, qual è l'ultimo elemento inserito? E5 e al posto di controllare gli indici mi dico, nella lista di partenza c'è un elemento che viene dopo E5? No, e allora non vado più avanti. E in questo caso riesco ad evitarmi il controllo, l'aggiunta di E4. Questo però cosa vuol dire? Che noi dobbiamo essere in grado di recuperare da parziale, tutte le volte, l'ultimo elemento inserito. Ok? Quindi prendo l'ultimo elemento inserito di parziale e vado a vedere, ok, che posizione ha nella lista di partenza? E l'ultimo, ok, non posso più andare avanti. Se invece siamo qua, E4, l'ultimo inserito, che posizione ha nella lista di partenza? E il penultimo, ok, allora ci posso inserire ancora E5. Perché non possiamo farlo, secondo voi, con la soluzione che abbiamo adesso? Se qualcuno ha un'idea. C'è un passo di questa soluzione, al posto di prendere gli indici, vado a vedere qual è l'ultimo elemento di parziale che ho inserito e vado a vedere la sua posizione in partenza. C'è un passo che non possiamo fare. Sì, Mario dice, anziché L non potremmo usare la size di soluzione parziale? Sì, ma non risolve il problema. Proviamo a ragionare su questo. Concettualmente, perché qua non possiamo prendere l'ultimo elemento di parziale e vedere la sua posizione in partenza? Perché è parziale un set. Ok? Parziale un set e non abbiamo la garanzia di riuscire a recuperare l'ultimo elemento inserito, perché appunto un set non modella l'ordine. Ok? Quindi, soluzione per implementare in modo, diciamo così, perfetto questa questa ottimizzazione. Manuel suggerisce un link dash set, potrebbe essere un'idea, anzi sicuramente sarebbe forse la soluzione migliore. Alternativamente avremmo bisogno di trasformare la nostra parziale in una lista. Ovviamente ci perdiamo un po' dal punto di vista delle performance, ad esempio della contents, ma ci guadagniamo molto perché riusciamo a tagliare via tantissimi casi inutili, che purtroppo la nostra ottimizzazione di adesso non riesce a fare, almeno in completezza. Lo possiamo provare anche a fare, magari lo faccio di un nuovo branch, quindi mi creo un nuovo branch che chiamo soluzione con lista, ok? Almeno non sporchiamo la soluzione di adesso. Poi rispondo anche a Beatrice. Dicevamo, dobbiamo cambiare un po' di cose, ad esempio, trasformare la nostra parziale in una lista. List di esame new array list. Importiamo. Ovviamente poi dobbiamo cambiare anche un po' di parametri, ad esempio, i metodi riceveranno al posto di set delle list. Ok? Stessa cosa, questi metodi di appoggio che usavamo, calcola media e somma crediti, riceveranno adesso delle liste. benissimo. Non ci sono più errori nel modello, saltano fuori degli errori nel controller, andiamo a vedere perché. Ah, ok, perché richiamavamo quel calcola media su un set che però adesso è diventata una lista. quindi anche il suo valore di ritorno qui è una lista. Ah, perché anche soluzione migliore di conseguenza dovrebbe diventare una lista. Vedete che ci sono un po' di cose da cambiare, un po' spiacevole, ma array list. perfetto. Ok, il controller adesso è a posto. Qui di nuovo è un array list e non dovre, no, c'è ancora un errore, vediamo dove, sempre qua. Ok, quello che ho fatto è semplicemente trasformare i set in list. Ma questo ci permette di appunto implementare questa ottimizzazione. Commento questa che era una ottimizzazione diciamo così parziale, funzionava a metà. Cosa posso fare? Beh, posso andare a vedere ok, qual è la posizione nell'elemento, nell'insieme di partenza dell'ultimo elemento che ho inserito in parziale? Beh, vado a prendermi l'indice che definisco a priori a zero e se parziale contiene almeno un elemento, quindi if parziale punto size maggiore di zero, mi vado a prendere l'indice last index dell'ultimo elemento di parziale nell'insieme di partenza. Beh, come faccio? Allora, innanzitutto, come prendo l'ultimo elemento inserito in parziale? Essendo una lista, prendo appunto parziale punto get di parziale punto size meno uno ok? Questo prende l'ultimo elemento che ho inserito in parziale, questo qui set non potevo farlo e adesso vado a recuperarmi la posizione di questo elemento all'interno della lista di partenza. quindi partenza punto index off index off e l'ultimo elemento. Quindi se nell'esempio di prima l'ultimo elemento inserito in parziale è E4 ok? La posizione last index sarà 3 alla posizione 3 0, 1, 2, 3. E va bene. Adesso che ho questo posso facilmente fare il mio for che però parta da quel last index int i uguale last index i minore di partenza punto size i più più ok? a questo punto il contenuto diciamo così rimane lo stesso abbiamo la contents non so cosa ho fatto contro z scusate abbiamo la contents l'aggiunta l'aggiunta il cerca ricorsivo e il backtrack manca probabilmente una parentesi ok? quindi qui non ho più la corrispondenza tra i e l che abbiamo visto in certi casi creava problemi soprattutto quando facciamo backtrack non funzionava bene vado proprio a vedere a prendermi questo indice esplicitamente e lo uso per scorrere per capire da che posizione partire quando vado a esplorare il mio insieme di partenza adesso rivado a mettere tutti gli esami originali di popoli db nel mio database prendiamo questo file devo anche cancellare i precedenti quindi questo ok run java application perfetto ho reinserito i miei esami originali e se adesso vado a lanciare il main se è tutto va bene inserisco 50 crediti vi ricordate che con gli esami originali con 50 crediti senza ottimizzazioni non arrivava alla fine l'approccio 1 con l'ottimizzazione che abbiamo visto che qualcuno di voi ha implementato ci metteva comunque diversi secondi vediamo adesso ah c'è la stampa che toglie del tempo scusate ci mette comunque già di meno ma se togliamo la stampa che comunque consuma tempo togliamo la stampa del parziale rilancio 50 crediti vedete siamo tornati nell'ordine dei millisecondi esattamente come l'approccio originale quello più veloce la media 29 l'insieme ho solo cambiato un po' la stampa ma l'insieme degli esami è sempre quello ok quindi in questo modo abbiamo dovuto cambiare le strutture dati per andare esplicitamente a trovare questi indici da cui partire sicuramente ci perdiamo un po' facendo delle index off nelle liste però come vedete riusciamo ad accelerare di molto perché evitiamo molti casi inutili calco la media eccolo qua anche qui Alessio chiedeva di tornare su calco la media qui ho solo cambiato il set in una lista detto questo tutti i metodi che abbiamo visto oserei dire addirittura anche più scarso l'approccio 1 senza ottimizzazioni possono andare bene nell'ottica di questo corso ok abbiamo speso un po' di tempo per cercare di capire come migliorare i nostri algoritmi benissimo se riuscite ad identificare subito la soluzione migliore la soluzione più veloce detto questo ripeto non siamo un corso di ottimizzazione di algoritmi quindi direi che tutti gli approcci che abbiamo visto possono andare bene ad esempio Beatrice chiede io avevo inserito solo un controllo in più if partenza punto index of maggiore di l sì ripeto anche la tua soluzione Beatrice può andare benissimo non siamo qui a fare la gara dei tempi l'importante è che la logica sia giusta e il risultato finale sia giusto poi ripeto anche nell'ottica dell'esame cerchiamo poi sempre di provare i programmi con un numero limitato di dati con dei vincoli bassi diciamo così così che praticamente tutti gli approcci possano arrivare a terminazione gli approcci ricorsivi ok Giorgia chiede quindi la valutazione dell'esame non ti racconto dell'efficienza del programma allora dell'efficienza della ricorsione oserei dire di no ok quindi ripeto tutti gli approcci che abbiamo visto ad esempio per questo esercizio potrebbero andare bene vedremo che con i grafi che inizierete credo la prossima settimana le cose saranno un po' diverse lì nei grafi ci sarà ci saranno veramente due tre modi di agire che a seconda del database utilizzato danno dei risultati veramente diversi e lì in quel caso le performance sono importanti perché banalmente con seguendo l'approccio più diciamo così meno performante non si riesce proprio addirittura arrivare alla creazione del grafo e quindi in quel caso lì è problematico in quel caso bisogna creare il grafo riuscire a creare il grafo in un numero accettabile di massimo minuti ok non ci deve mettere un quarto d'ora però per la ricorsione direi che tutti gli approcci possono andare bene Francesco chiede ma i grafi si basano sulla ricorsione allora qui stiamo andando un po' avanti diciamo così non so se lo sapete già ma l'esame è probabilmente sì composto di due punti di cui il primo punto quello che determina se l'esame è passato o no quindi una sorta di sbarramento si basa sulla creazione di un grafo ok e lì non c'entra niente la ricorsione in quel caso le performance sono importanti cioè il grafo deve essere creato entro massimo pochi minuti altrimenti niente l'esame purtroppo non è passato su quel grafo poi si può innestare un esercizio ricorsivo il punto 2 può essere un esercizio di ricorsione sul grafo costruito e ripeto per questo secondo punto di ricorsione direi che gli approcci bene o male possono andare bene tutti spero di essermi spiegato va bene poi farò il push di questo di questa nuova ottimizzazione ma passiamo all'esercizio di oggi e già abbiamo perso un po' di tempo ma secondo me era importante capire le differenze tra le varie tra le varie ottimizzazioni speriamo di finirlo altrimenti lo finite poi voi e io pubblicherò la soluzione di questo nuovo esercizio ci proviamo esercizio razzol allora immagino che tutti sappiate che cos'è il videogioco l'app razzol è un videogioco in cui data una matrice 4x4 di lettere casuali il giocatore deve estrarre il maggior numero formare il maggior numero di parole di senso compiuto con le lettere a disposizione le parole devono essere di almeno due lettere e si formano queste parole andando a prendere lettere adiacenti tra loro in orizzontale in verticale in diagonale e non è possibile riutilizzare la stessa casella più volte io mi sono aperto qui un attimo non qua ma in questa pagina è un razzol online per chi non sapesse giocare italiano gioca vedete ho questa matrice che in questo caso è più grande di solito è 4x4 noi la faremo 4x4 in cui ci sono delle lettere casuali e io devo andare a formare delle parole selezionando delle lettere adiacenti in diagonale in verticale o in orizzontale qui ho trovato la parola lati la parola t non c'è non lo so temo ok non sono mai stato forte a questo gioco però immagino che tutti lo conosciate allora che cosa vogliamo fare noi noi non vogliamo tanto replicare il gioco ma vorremmo fare un programma ricorsivo che ci permetta di risolvere il gioco così che possiamo barare quando giochiamo quindi dato una matrice di lettere trovare tutte le parole di senso compiuto che si possono formare in questa in questa matrice razzol ovviamente lo risolviamo utilizzando un algoritmo ricorsivo il progetto base contiene già tantissime cose perché altrimenti non finiremmo più innanzitutto l'interfaccia grafica quindi se io lancio il main ho questa interfaccia grafica in cui posso già andare a fare reset mi crea questa matrice 4x4 di lettere casuali e poi ho il tasto prova per provare una parola ovviamente da implementare ma non è tanto questo che ci interessa quello che ci interessa è il tasto risolvi tutto dovrebbe trovarci tutte le parole che si possono formare a partire da questa da questa matrice ok vediamo cosa contiene il progetto base abbiamo il solito package db perché abbiamo un package db perché qui andiamo a interfacciarci con il il nostro database dizionario per capire le parole di senso compiuto che siano valide all'interno del gioco quindi questo database l'avete già utilizzato nel caso lo trovate anche qui avete visto immagino il connection pooling quindi la classe db connect sfrutta già le nuove librerie ma di questo non dovete preoccuparvene troppo il DAO semplicemente ci permette di estrarre tutte le parole dal dizionario e questa è la parte direi meno interessante la parte interessante sta nel package model cosa abbiamo nel package model due classi di diciamo così entità che ci serve modellare la prima è pose che cosa modella pose modella una posizione nella matrice quindi ha una riga e una colonna d'accordo molto facile la classe board invece modella la schiera la matrice da che cosa è formata questa oggetti una board allora abbiamo due cose innanzitutto una mappa che sarebbe la matrice vera e propria in cui l'indice è una posizione ad esempio la posizione 00 e il valore è una string property allora attenzione qui potevamo usare direttamente delle stringhe siamo d'accordo ad esempio posizione 00 contiene la stringa A la parola A usiamo le string property che dovreste aver visto di sfuggita nelle lezioni del pattern model view controller perché ci permette ci semplificano la vita perché ci permettono di fare in modo che il bottone il bottone dell'interfaccia grafica sia direttamente collegato tramite un binding a una determinata string property allora se noi andiamo a lanciare di nuovo il programma scusate mi stai la chat noi abbiamo questa matrice che è formata da un insieme di bottoni ogni posizione ogni casella è un bottone noi utilizzando le string property possiamo far sì che un bottone ad esempio questo sia direttamente collegata collegato alla stringa j alla string property j perché ci semplifica le cose perché con questo binding quando io vado a modificare la string property di questa casella questo cambiamento si riflette direttamente nell'interfaccia grafica in sostanza mi evito di fare la set text ogni volta ok il motivo è solo questo però è utile perché ci permette di evitare di scrivere troppo codice comunque è già una parte che è già fatta potete guardare per curiosità ma adesso sapete anche capire il motivo per cui si usano queste queste property quindi questa classe board ha la matrice vera e propria e poi una lista di posizioni vedremo che ci tornerà utile che in pratica serve per restituire tutte le posizioni che sono modellate da una determinata scacchiera vabbè cosa fa il costruttore prima definisce le caselle del gioco e la forma del piano del gioco in questo caso noi faremo sempre matrici 4x4 quindi abbiamo i due cicli for che definiscono queste queste posizioni e poi si definisce il contenuto delle caselle contenuto delle caselle che poi è veramente valorizzato dal metodo reset il metodo reset ogni volta tira caso una lettera e la va a settare vedete che c'è questo metodo di set nella string property opportuna della cella quindi non abbiamo più un uguale uguale alla stringa come faremo con stringhe normali ma utilizziamo i metodi di set e grazie al binding che lo vedremo è fatto nel controller la set questa set qui modifica direttamente il testo del bottone l'interfaccia grafica abbiamo poi dei metodi di supporto tipo questo molto utile data una posizione p mi restituisce le celle adiacenti ok già anche questo fatto lo utilizzeremo nel controller dicevo c'è tutta la serie di bottoni perché ogni casella è un bottone abbiamo i due event handler per trova tutti e prova parola che sono già parzialmente completati e poi abbiamo eccolo qua il binding il binding tra la string property della della cella e il bottone quindi associo ad ogni bottone la string property della relativa cella chiara chiede poi rispondo anche a mario che fa una domanda sull'esercizio ancora di prima magari rispondiamo alla fine della lezione chiara chiede ma anche all'esame ci verrà dato uno scheletro iniziale del genere sì 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 magari un po' meno complicato però però sì ok direi che abbiamo visto tutto proviamo come al solito a impostare una traccia di soluzione quindi creo un nuovo file qua dentro che chiamo traccia soluzione e cerchiamo di capire come possiamo data la matrice che abbiamo visto estrarre tutte le parole che si possono comporre secondo le regole del gioco del razzo allora anche qui come sempre non c'è un unico approccio possibile ve ne accenno due poi ci focalizziamo sul primo che è il più facile il primo approccio è questo quello che andremo a fare che cosa vuol dire risolvere una matrice razzo beh potremmo scomporre il problema cercando di identificare di risolvere prima un passo iniziale che è quello di capire se una determinata parola fa parte o meno della nostra griglia dal momento in cui sono capace di capire se una parola in input ad esempio fa parte o meno della griglia beh io so risolvere il mio razzo perché perché io tutte le parole valide le conosco sono quelle presenti nel dizionario quindi potrei per ogni parola del dizionario che so che è valida andare a vedere se è presente o no nella matrice e se è presente l'aggiungo alla mia soluzione finale ok è il modo migliore è il modo più performante probabilmente no anzi quasi sicuramente no però il nostro problema è piccolo abbiamo matrici 4x4 e quindi potrebbe essere una soluzione valida per noi è chiaro questo primo approccio è quello che andremo a fare prima di concentrarmi su cioè al posto di concentrarmi sul trovare tutte le parole quindi sul problema in generale lo scompongo in sottoproblemi più piccoli cioè data una parola cerco di capire se è presente o meno nella griglia dopodiché so tutte le parole valide e per ognuna vado a vedere se c'è o non c'è nella griglia dove sta qui il processo ricorsivo beh sta nel problema di capire se una parola è presente o meno quello è il passo ricorsivo approccio 1 approccio 2 forse un po' più efficiente può essere questo lancio il programma per aiutarmi l'approccio 2 potrebbe essere quello di provare tutti i possibili percorsi sulla griglia di Razzol quindi ad esempio parto dalla prima cella della della mia matrice dalla lettera U e mi chiedo esiste una parola U se sì la metto da parte se no la scarto in questo caso non va bene anche perché bisogna avere almeno due lettere ok vado avanti esiste una parola UM no va bene esiste una parola che inizia per UM sì e allora continuo esiste una parola UMQ no esiste una parola che inizia con UMQ no allora torno indietro faccio backtracking e vado UML esiste una parola UML non lo so supponiamo di sì ok me la salvo esistono parole che iniziano per UML sì vado avanti e così via ok vado avanti finché trovo delle parole di senso compiuto poi faccio backtrack ed esploro tutti i possibili percorsi questo è il secondo approccio che anche qui se volete potete provare a farlo in autonomia domande intanto mi apro la traccia se non ci sono domande proviamo a sviscerare l'approccio numero uno che è quello un po' più facile quindi qual è il problema data una stringa da riconoscere quindi quali sono gli input diciamo così del problema una stringa da riconoscere chiamiamola parola poi cosa abbiamo in input il contenuto della matrice della board e poi potremmo anche pensare implementare subito una prima ottimizzazione noi possiamo direttamente sapere il punto da cui cominciare la ricerca della parola cioè ok rilancio il programma se io sto ricercando la parola non lo so pippo ok è inutile che io parta a ricercare la parola pippo dalla prima casella perché la prima casella è una s e non potrà esserci una parola pippo che parte di qua no io potenzialmente posso a priori andare a capire la posizione iniziale da cui una posizione possibile plausibile da cui iniziare che potrebbe essere questa ok è inutile partire dalla s parto dalla p visto che la parola è pippo quindi come input del problema potrei anche avere la posizione della lettera iniziale me la vado a cercare nella board se c'è ovviamente se non c'è neanche la lettera iniziale vuol dire che quella parola a maggior ragione non potrà essere creata nella matrice quindi faccio questa prima ricerca fuori dal processo ricorsivo se trovo la lettera iniziale allora a quel punto posso far partire il mio sottoproblema ricorsivo è chiaro? ok cos'è una soluzione parziale? cerco di seguire il solito schemino la soluzione parziale sarà parte la parte iniziale della parola la parte che ho già riconosciuto già riconosciuto se sto ricercando pippo parziale al primo giro conterra p al secondo p p p p p p eccetera quella è la soluzione parziale che viene costituita costruita mano a mano per visualizzare ad esempio le parole riconosciute nella board oltre che tenerci traccia della soluzione parziale potrebbe essere utile tenere traccia dell'elenco delle posizioni in cui si trovano diminuisco un po' lo zoom le lettere già riconosciute questo è di supporto per noi in modo tale che possiamo direttamente andare nella board ed evidenziare la parola riconosciuta visto che possiamo tenerci traccia delle posizioni in cui le lettere riconosciute si trovano che cos'è una soluzione totale attenzione qui non siamo in un problema di ottimizzazione la parola pippo potrebbe esserci n volte nella scacchiera costruita in modi diversi a noi basta trovarla una volta cioè la prima che troviamo ci va bene a differenza di voti Nobel dove era un problema di ottimizzazione cercavamo cercavamo la soluzione migliore comunque la soluzione totale è la parola completamente riconosciuta riconosciuta anche qui a maggior ragione è utile tenersi traccia dell'elenco delle posizioni in cui si trovano le lettere della parola finale riconosciuta qual è il livello della ricorsione secondo voi a cosa possiamo mappare il livello della ricorsione in questo problema ok Alessandro dice alle lettere della parola sì alle lettere che sono ai caratteri già riconosciuti mano a mano sì esatto Carlo dice anche la stessa cosa Michele eccetera tutte giuste quindi il livello della ricorsione per noi può rappresentare il numero di caratteri ops non sto scrivendo stavo scrivendo nella chat numero di caratteri già riconosciuti mano a mano questo livello aumenta passiamo alle condizioni di terminazione allora ne abbiamo uno principale che dalle risposte che mi avete dato dovrebbe esservi chiaro mi fermo quando il livello è uguale alla lunghezza della parola questo mi sembra chiaro se il livello corrisponde al numero di caratteri già riconosciuti di quella parola quando questo numero di caratteri arriva a 5 ad esempio per Pippo mi fermo perché Pippo ha 5 caratteri e non 6 e neanche 7 è necessario arrivare fino al fondo direi dipende se viene trovata la soluzione l'idea potrebbe essere di interrompere subito la ricerca nel senso che non torno indietro togliendo rimettendo provando altri caratteri no se io sono arrivato a Pippo non faccio backtrack togliendo la O e provando la N ho trovato Pippo mi fermo ho trovato la parola e basta provo con la parola successiva l'avvio della ricorsione da che livello partiamo direi non da 0 perché se implementiamo la prima ottimizzazione che ci siamo detti cioè io la posizione della lettera iniziale me la vado a cercare manualmente perché so che o c'è o non c'è e se non c'è è inutile che ricerco la parola quindi l'avvio della ricorsione potrebbe partire dal livello 1 perché la prima lettera l'abbiamo trovata manualmente e quindi parto da una posizione che contiene la prima lettera della parola se c'è ovviamente Alessandro chiede quindi non controlliamo se ci sono altre combinazioni per ottenere la parola no perché a noi basta trovarla una volta cioè noi vogliamo estrarre tutte le parole che sono contenute in quella matrice tutte le parole individualmente una per una quindi che Pippo ci sia una o n volte non ci interessa ci interessa che Pippo ci sia e basta non è in altre parole come dicevo un problema di ottimizzazione ma solo un problema di ricerca l'ultima cosa che possiamo a cui possiamo pensare prima di partire sono le strutture dati non so più scrivere strutture dati che ci servono abbiamo sicuramente bisogno di una stringa da riconoscere parola l'abbiamo chiamata stringa il livello intero come sempre e poi visto che abbiamo detto potrebbe essere utile tenere traccia delle posizioni in cui si trovano le lettere della parola potremmo anche servirci di una lista di pose gli oggetti di classe pose chiamiamola percorso corrispondente alla sequenza di caselle ok francesco dice e se ci fossero due parole tipo un e uno tornando indietro quando si trova la parola non ci impedirebbe di trovare la seconda no con questo approccio no perché se ci fossero queste due parole probabilmente ci saranno un e uno noi avremo due righe nel database no nel dizionario quindi noi andiamo a prendere entrambe le righe quindi estraiamo dal dizionario la parola un e andiamo a vedere se c'è ok c'è bene poi passiamo alla parola successiva uno e andiamo a vedere anche questa se c'è o non c'è quindi con questo approccio queste due parole sono diverse quindi sono due righe del dizionario e noi andiamo a fare due ricerche diverse ok e ovviamente un approccio semplice semplificato non molto performante ripeto ma per la dimensione del problema che abbiamo può andare bene se non ci sono altre domande possiamo provare a tradurre questa cosa qui in in codice allora chiudo un po' di cose altrimenti non ci capiamo più apriamo il modello che è quello che dobbiamo la parte applicativa che dobbiamo andare a sviluppare vediamo che il modello ha già questi due metodi uno è trova parola quindi il passo principale il passo ricorsivo e poi il metodo prova tutte che prova che chiamerà il metodo trova parola per tutte le parole del dizionario Alessandro chiede se ci fossero più P nella tabella ma solo partire da una portasse alla soluzione Pippo sì questa è una giusta domanda in quel caso dovremmo ripetere la ricerca più volte dovremmo ripetere la ricerca per tutte le P presenti nel nella nella scacchiare iniziale quindi se non troviamo la parola partendo dalla prima P dovremmo ripetere la ricerca partendo dalla seconda P per essere sicuri che non ci sia partendo da quella nuova posizione esatto dovremmo ripetere per parola nel dizionario ok Francesco chiede mi sono perso che strutture di dati useremo le vado a rivedere avremo una stringa da riconoscere parola sono poche le strutture dati il livello intero come sempre è una lista di posizioni per tenere traccia delle posizioni nella della parola riconosciuta Giovanni dice potremmo fare una lista di posizioni iniziali iniziali in pratica giusto sì potrebbe essere una soluzione allora iniziamo a risolverlo facendo finta che questo problema non ci sia e poi cerchiamo di aggiungere questa cosa che sicuramente è un vincolo che è importante perché altrimenti potremmo perderci delle parole ok Alessandro dice un altro metodo di terminazione potrebbe essere non avere più posizioni disponibili dove saltare sì è giusto questo vedremo che verrà modellato implicitamente va bene ma buttiamoci sul codice poi questi dubbi probabilmente verranno chiariti partiamo dal trova parola direi ok il passo fondamentale del nostro approccio data una parola che riceviamo dall'esterno cerchiamo di capire se è presente oppure no all'interno della matrice allora come facciamo innanzitutto abbiamo detto noi possiamo conoscere la lettera di partenza andiamo a vedere la posizione della lettera di partenza andiamo a ricercarla nella matrice come facciamo beh scorriamo tutte le posizioni all'interno della matrice quindi for pose p all'interno di board punto get positions vi ricordo che questo metodo ci ritorna tutte le posizioni modellate dalla nostra board e per ogni posizione mi vado a chiedere ok questa posizione questa cella contiene la prima lettera della mia parola se sì posso provare a far partire la ricerca se no vado avanti dunque qui c'è un po' di lavoro da fare come facciamo a recuperare la prima lettera di una stringa parola punto char at zero questo metodo char at di una stringa mi restituisce il primo carattere appunto di questa stringa perché ho specificato zero il carattere a posizione zero attenzione mi restituisce un char non una stringa e neanche un char con la c maiuscola un char ok questo lo devo confrontare con che cosa con la lettera inserita nella posizione p della board allora questa lettera abbiamo visto è modellata tramite una string property come faccio a recuperarla innanzitutto devo andare a recuperarmi la property board punto get sell value property di nuovo un metodo di supporto che abbiamo già nel progetto base della posizione p ok con questo metodo recuperiamo la string property della board a posizione p non basta dobbiamo ancora fare una get quindi dalla string property con la get ci prendiamo guardate bene il valore di ritorno la stringa ok la string property è un oggetto che vrappa una stringa quindi con la get mi prendo la stringa ma non basta ancora perché dall'altro lato del confronto abbiamo un carattere non una stringa e non possiamo confrontare stringhe con char allora char at 0 noi sappiamo che tanto questa stringa che recuperiamo con la get è una stringa di un solo carattere ogni bottone ha associato una lettera singola e va bene allora con char at trasformiamo questa stringa char at di 0 in carattere ok abbiamo carattere di qui carattere di là possiamo usare l'uguale uguale ma solo perché stiamo parlando di tipi di dati primitivi char quindi possiamo usare l'uguale uguale e non l'equals però attenzione bisogna aver chiaro cosa si sta facendo spero sia chiara questa cosa abbiamo dovuto fare un po' di lavoro in più con queste benedette string properties però questo poi ci semplifica la vita dal punto di vista dell'interfaccia grafica Simone chiede maiuscole e minuscole non danno problemi sì potenzialmente danno problemi noi sappiamo che le lettere nella board sono maiuscole quindi il trucchetto che useremo è di fuori dal modello prima di passare la parola trasformarla tutta in maiuscolo ad esempio in questo modo abbiamo un confronto che confronta solo lettere maiuscole però sì bisogna fare attenzione a questo altrimenti non funziona niente va bene se questo è il caso Alessandro chiede le lettere accentate lasciamo perdere un attimo questo problema sicuramente se nel database ci sono lettere accentate ci sono parole con lettere accentate e la board non ha lettere accentate ovviamente quelle parole non potranno mai essere mai essere composte nella griglia potenzialmente potremmo creare delle griglie con delle lettere accentate ma non è questo il caso credo che qui il metodo reset crei la griglia solo con lettere senza accenti dicevamo se troviamo la prima lettera in una delle varie posizioni beh noi da quella posizione possiamo far partire la ricerca quindi possiamo crearci ad esempio una lista di pose chiamiamola percorso che all'inizio è vuota questa diciamo che sarà la soluzione parziale che mano a mano terrà traccia delle posizioni questa qua che avevamo definito qui per appunto tenere traccia delle posizioni delle lettere già riconosciute a questo percorso posso già aggiungere la prima posizione perché io so che partirò da questa lettera p l'ho ricercata manualmente e poi if cerca avrò il mio metodo cerca quello si ricorsivo di che cosa della parola abbiamo letto c'è il solito livello della ricorsione che partirà da 1 perché una lettera l'abbiamo già aggiunta questo metodo non ce l'ho ancora ma lo farò a breve poi possiamo passare il percorso che è la nostra diciamo così soluzione parziale e ancora bisogna di qualcosa no direi di no perché la board ce l'abbiamo come attributo della classe quindi se questo metodo ricorsivo ci ritornerà vero ok vorrà dire che la parola è stata trovata allora posso fare una return del percorso ok ho trovato la parola e ti do in cambio il percorso delle posizioni sulla griglia se non troverò mai questa parola ritornerò null così che il chiamante potrà capire ok questa parola non c'è sulla griglia perché mi ha ritornato un percorso nullo come vedete con questo ciclo for qui in cui vado a prendere a cercare la mia posizione iniziale della prima lettera si risolve in automatico il dubbio che aveva il giusto dubbio che aveva Alessandro prima nel caso in cui ci fossero più p nella tabella bisognerebbe provare la ricerca della parola pippo da tutte queste p perché magari la parola pippo appunto si trova partendo dalla seconda p e non dalla prima qui le provo tutte ok se per caso la parola pippo inizia dalla prima p della griglia va bene il ritorno è benissimo se per caso iniziasse dalla seconda non entrerò mai in questo in questo ramo condizionale non ritornerò mai il percorso tornerò su troverò la seconda p e proverò dalla seconda p ok quindi questo problema è già risolto in automatico il problema in cui ci siano potenzialmente più punti da cui partire beh li proviamo tutti il primo che ci va bene facciamo finire il metodo e ritorniamo la parola il percorso dobbiamo implementare questo metodo cerca il metodo ricorsivo allora solito pattern caso terminale per primo abbiamo detto quando il livello raggiunge la lunghezza della parola è inutile andare avanti ok if livello uguale uguale parola punto length e diciamo di più se mai riusciamo ad arrivare a questo punto vorrà dire che la parola l'ho trovata ok perché sono riuscito a costruire il livello quale ho chiamato i chiamiamolo livello se sono arrivato a questo punto vuol dire che ho trovato la parola altrimenti se non sono nel caso terminale cosa faccio mi prendo l'ultima lettera inserita l'ultima lettera che ho controllato e vado a recuperarmi tutte le adiacenti e da quelle adiacenti vado a scegliere quella che potenzialmente riesce a farmi continuare la mia parola quindi mi recupero l'ultima posizione sulla board e io questo queste posizioni me ne tengo traccia mano a mano nel mio percorso parziale quindi percorso punto get percorso punto size meno 1 data l'ultima l'ultima posizione di cui ho tenuto traccia vado a prendermi le adiacenti list di pos adiacenti e qui posso usare il metodo di supporto che abbiamo visto prima get adiacenze metodo che c'era già nel progetto base benissimo poi per ognuna di queste adiacenti le vado a controllare una a una e se per caso ce n'è una o più di una che mi permettono di continuare la parola faccio avanzare la ricorsione seguendo quel percorso quindi for pos p in adiacenti qui ovviamente dovrò controllare se l'adiacente va bene oppure no perché supponiamo sempre di ricercare la parola pippo sono sulla lettera i ok ho riconosciuto pi sono sulla lettera i mi prendo tutte le adiacenti e se un'adiacente è la lettera a non ha senso che io continui la ricorsione verso quella lettera ma se tra le adiacenti trovo un'altra lettera p allora sì che ha senso continuare quel percorso p i p ok quindi cosa dobbiamo controllare che la parola la parola di partenza e in particolare il carattere a posizione e livello cioè il carattere che viene dopo nella parola siamo a pi il carattere a posizione e livello sarà pi deve essere uguale al carattere salvato nella posizione p se questo è il caso è un percorso promettente posso continuare verso quella zona della matrice altrimenti no come faccio a recuperare la lettera alla posizione p beh come ho fatto prima con questa sintassi lunghissima che a partire dalla string property mi va a prendere il singolo carattere è sufficiente secondo voi questo filtro oppure ci sarebbe qualcosa da da aggiungere alessandro alessandro dice char at parte da zero come numerazione sì quindi a posizione zero è la prima prima lettera poi nella string property c'è solo una lettera quindi sarà per forza zero nella parola invece potenzialmente ci sono più caratteri dicevo è sufficiente questo filtro cioè è sufficiente trovare una lettera adiacente che mi vada bene oppure c'è qualche controllo aggiuntivo da fare Mario dice potremmo controllare la lunghezza nì Simone e anche Giuseppe e anche Luigi dicono giustamente attenzione che è una regola forte del gioco e che non si possono usare due volte le stesse lettere e quindi dobbiamo controllare che quella posizione non sia già stata usata come facciamo con la solita contents in percorso quindi va bene solo se il percorso non contiene già pose qui mi sono perso di tutto qui ci sarà una end e poi parola punto ok Beatrice chiede char at non dovrebbe essere di 1 riga 75 qua dici perché di 1 qui è di 0 perché intanto la string property associata a un bottone contiene per forza una sola lettera e quindi sarà una stringa di un solo carattere un solo carattere che si trova a posizione 0 non so se ok niente figurati ok perfetto quindi se questo filtro è verificato allora posso procedere verso quel cammino quel percorso aggiungendo la posizione al mio percorso punto add p quindi aggiungo faccio ricorsione cerca parola livello più 1 virgola board no board ce l'ho già percorso scusate quindi faccio ricorsione continuo verso quel percorso e poi faccio backtracking percorso punto remove tolgo l'ultimo inserito percorso punto size meno 1 allora qui posso fare anche un'uscita rapida nel senso che noi ci aspettiamo che questo metodo ci ritorni un booleano vero se l'ho trovato falso altrimenti quindi se questo cerca ricorsivo mai mi ritornerà vero nei rami successivi esplorando la ricorsione beh allora io esco subito dalla ricorsione facendo return true ok è inutile fare backtrack l'ho trovata quello che dicevamo prima è inutile fare backtracking sono arrivato a pippo è inutile togliere la o provare con la n ritorno true e risalgo se invece non trovo non entrerò mai in quel ramo vorrà dire che la mia parola non l'ho ritrovata e quindi ritorno falso vedete che comunque anche qui possiamo riconoscere il solito pattern che più o meno si ripete negli esercizi ricorsivi i casi terminali all'inizio poi abbiamo un filtro per capire se il nuovo elemento può essere aggiunto oppure no l'aggiunta la soluzione parziale il cerco ricorsivo e il backtracking ok bisogna solo specificarlo bene ogni tanto c'è qualcosa che cambia a seconda del problema del problema che si si va ad affrontare Alessandro chiede può rispiegare questo ultimo if è un'uscita rapida dalla ricorsione cioè se questo cerca io sono a un livello iniziale della ricorsione d'accordo e rilancio il cerca se questo cerca ritornerà vero in qualche momento è inutile continuare poi cioè risalire e continuare verso un altro percorso perché la parola l'ho trovata lo so perché i cerca sotto di me mi hanno detto guarda che l'ho trovata e allora ritorno subito vero cioè non continuo a fare backtracking e provare altri percorsi perché mi basta trovare una volta la parola e allora ritorno vero allora abbiamo questo questo cerca e questo trova parola implementato proviamo proviamo direttamente a collegare questo primo passo al controller perché come vedete il controller ha anche cioè se io lancio il programma abbiamo anche il bottone per provare parola per parola e quindi ci viene ci viene utile per provare questi metodi che abbiamo appena fatto quindi se io qua nel controller vado a eccolo qua l'handler per quel bottone di prova c'è già c'è già il controllo dell'input eccetera ah è già tutto collegato abbiamo anche già il trova parola già tutto fatto molto bene avanziamo di scrivere codice noioso quindi abbiamo già il richiamo del metodo trova parola che abbiamo appena fatto metodo che a sua volta chiamerà il cerca proviamolo vediamo se funziona faccio reset quindi mi genero una board e aiuto qui sicuramente si potrebbe fare di meglio nella generazione iniziale della board perché come penso sappiate non tutte le lettere hanno la stessa probabilità di apparire in parole di lingua italiana ad esempio la k c'è pochissime volte quindi si potrebbe generare la matrice iniziale tenendo conto della probabilità di ogni lettera di apparire nelle parole di lingua italiana e quindi dare più spazio a lettere furbe e non tanto alla k però vabbè proviamo a rigenerare un'altra matrice vediamo se troviamo una parola di senso compiuto tipo va dovrebbe esserci no? troviamo con va e infatti vedete che me la evidenzia quindi sembrerebbe funzionare altre parole nei forse nei sì c'è e e vediamo che funziona Giovanni dice in realtà anche www funziona www proviamo un po' è vero probabilmente perché nel dizionario c'è questa parola non chiedetemi perché questo dipende però dal database sottostante perché se poi proviamo www y ah no aspetta forse qua c'è qualche problema ad esempio questa non c'è vediamo un po' sì no direi che c'è qualche problema di fondo qui no qui non contro esatto qui non controlliamo ancora ah giusto avete ragione scusate errore errore mio qui non stiamo ancora controllando col dizionario quindi in realtà per lui tutte le parole che ci sono qua dentro vanno bene ok perché non stiamo ancora controllando se le parole hanno un senso compiuto oppure no la prova che volevo fare era provare una parola che non ci sia proprio che non si riesca proprio a costruire a partire da questa matrice e infatti non la trova se invece noi qualunque parola la proviamo a patto che sia contenuta in questa matrice per lui va bene perché non ha il concetto di ok questa parola è valida oppure no ci dice solo io questa serie di tre lettere riesco a costruirla col metodo ricorsivo poi sarai tu che mi dovrai dire se ha senso oppure no ok scusate mi ero mi ero confuso un attimo Alessio anche dice se si fa reset rimane colorato ok sì possiamo sistemarlo come avviene la colorazione grazie all'attributo default button dei bottoni cioè se un bottone è settato con il metodo set default button viene viene colorato questo si fa nel controller ovviamente eccolo qua il refresh dell'interfaccia grafica lo facciamo sia quando clicchiamo su prova ma anche quando clicchiamo su reset quindi impostiamo tutti i bottoni in particolare la proprietà di default button a false e quando vogliamo illuminare un determinato bottone andiamo a impostare questa proprietà a true ok allora abbiamo visto che il processo ricorsivo funziona quello che manca è il passo superiore del nostro approccio quello che va ad approvare ovviamente solo le parole di senso compiuto e questo lo possiamo fare tramite il metodo trova tutte che cosa fa il metodo trova tutte va a prendere tutte le parole del dizionario e per ognuna di esse richiama il trova parola quindi possiamo prevedere una lista di stringhe chiamiamola tutte che con cui terremo traccia di tutte le parole che riusciamo a comporre nella matrice e poi for string p in parola chiamiamo una parola in dis punto dizionario dis punto dizionario semplicemente è un c'era già nel progetto base è una lista che contiene tutte le parole estratte dal DAO questa lista viene riempita nel costruttore del modello quindi quando lanciamo il programma quindi per ogni parola nel dizionario dico if this punto trova parola parola se questo percorso è diverso da nullo ricordiamoci che il metodo trova parola ci restituisce il percorso sulla board se è diverso da nullo vuol dire che la parola c'è e quindi tutte punto add parola è chiaro mancano delle cose però attenzione una l'abbiamo accenata prima l'ha accenata una di voi prima nel dizionario le parole sono minuscole nella board i caratteri sono maiuscoli quindi prima di passare la parola al metodo trova parola un trucchetto potrebbe essere ok trasformiamola tutta in maiuscolo p uguale p punto tu no parola uguale parola punto uppercase tu uppercase sì tu uppercase altra cosa che manca è che nel dizionario ci sono anche delle parole di una sola lettera per il gioco di razzo queste parole non vanno bene e quindi le escludiamo quindi non solo cerchiamo nel dizionario ma cerchiamo nel dizionario solo se la size della parola è maggiore di 1 parola punto length sì per le stringhe maggiore di 1 allora va bene fare la ricerca altrimenti scartiamo semplicemente la parola questo per una regola di razzo e alla fine della fiera ritorniamo tutte la nostra lista ora lo proviamo rispondo solo alla domanda di francesco io non ho capito cosa serve not percorso punto contains p nella riga 75 allora questo filtro si riflette su una regola di razzo che dice non è possibile riutilizzare la stessa casella più volte e quindi se la casella p adiacente l'ho già utilizzata e quindi l'ho già salvata in percorso non posso fare ricorsione cioè non posso tornare su quella casella e quindi utilizzo questo controllo per far sì che non si entri dentro la if ok proviamo un po' sempre francesco chiede ma solo per quella soluzione parziale giusto sì certo solo per quella soluzione parziale che si sta costruendo se in quella soluzione parziale c'è già quella posizione non posso tornarci ovviamente per un'altra poi soluzione parziale successiva potrò potrò utilizzare quella casella sì certamente preset proviamo a risolvere tutto ha trovato 74 soluzioni 74 parole presenti nel dizionario poi che ci siano parole che abbiano poco senso nel dizionario penso che questo sia chiaro a tutti anche tra gli anagrammi anche risolvendo l'esercizio degli anagrammi forse ve ne siete accorti però questo è il dizionario che abbiamo alcune parole hanno senso stasto altre un po' meno però direi che funziona quindi ci sono 74 possibili soluzioni in questa in questa matrice se facciamo reset e proviamo a risolvere tutto in questo caso ne abbiamo 77 Giovanni chiede nel reset si può aggiungere anche la clear della textarea volendo c'è di certo nel reset come si chiama no non è qua nel controller txtresult dove è reset eccolo qua txtresult punto clear ok poi Manuel chiede il controllo sul bottone prova lo implementiamo non capisco che controllo il fatto che tu non possa premerlo se non c'è una parola no c'è già c'è già il controllo poi Giorgia e Chiara chiedono a me non è chiaro il concetto di stream property allora di nuovo trovate le indicazioni sulla teoria nelle slide del pattern model view controller sostanzialmente poi non le andrete mai a utilizzare credo però semplificano la vita nel senso che ci permettono di fare questo binding tra la string property che in sostanza modella un carattere e il bottone il testo del bottone e questo cosa in cosa si riflette in che vantaggio si riflette beh si riflette nel vantaggio che io non ho bisogno di fare nessuna set text su questi bottoni cioè mi basta questa set iniziale ok che in realtà è il binding e poi il testo del bottone cambierà automaticamente tutte le volte che la string property associata cambia e quindi quando cambia una lettera sulla griglia ad esempio perché premo il bottone reset eccolo qua vedete che nel reset io in teoria dovrei andare per ogni bottone a fare la set text di una nuova lettera in realtà questo non succede perché in automatico il modello cambia le string property con questo reset e questo cambiamento è immediatamente riflesso sul testo dei bottoni e quindi non è più necessario andare a fare la set text per ogni singolo bottone perché c'è una corrispondenza tra la string property che è una proprietà del modello e il testo del bottone è semplicemente un modo per semplificare un po' la vita e scrivere meno codice ed è un esempio del pattern model view controller perché disaccoppiamo proprio le cose il cambiamento nel modello si riflette direttamente nell'interfaccia grafica senza dover toccare il controller ok poi ancora alcune domande siamo già fuori tempo ma direi che possiamo rispondere ancora a queste ultime domande Matteo chiede scusi stavo cercando di capire dove e quando la connessione con il database viene chiusa ma non capisco dove sia vediamo un po' magari manca me la sono dimenticata può anche essere e è chiusa qua qua quindi nel metodo del DAO ovviamente apro la connessione mi recupero tutte le parole e prima di uscire chiudo la la connessione Alessandro ma quindi prova seleziona solo cosa abbiamo scritto non controlla che sia giusta ah ok questo era il dubbio sul bottone prova sì esatto non controlla che sia giusta potremmo aggiungere anche questo controllo in più lo aggiungerò prima di fare push cioè qui nel bottone prova controlla appunto solo quello che scriviamo ma non controlla se è una parola valida nel dizionario lo aggiungerò esatto stessa domanda di Manuel sì si può aggiungere però per noi l'obiettivo non era tanto quel pulsante prova che ci serviva che ci serviva solo a valutare se la nostra soluzione ricorsiva funzionava per noi l'importante è il bottone trova tutti che poi deve che poi deve funzionare esatto come dice Giovanni l'importante è il bottone trova tutte per noi comunque aggiungerò quel controllo anche se è un po' un doppione anche lì Alessandro dice usando una string al posto di una string property cambiava solo che dovevamo fare manualmente i get e i set esatto un po' più di lavoro da fare ok direi che stoppo la registrazione qui perché ci sono ancora alcune domande relative all'esercizio di prima ma magari rispondiamo diciamo offline per chi è interessato quindi stoppo la registrazione pa 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 quindi stoppo Grazie.